buongiorno volete la pappa per caso si vuoi la pappa buongiorno gato denver buongiorno gata stellina si ho capito che vuoi la pappa ho capito che vuoi la pappa ma ciao mostriciatolo mio mostriciatolo chiacchierone si 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 mi muovo si gatti contenti buon appetito per colazione preparerò un frullato che ho preso un po di frutta e ho lo spinaccino che uso soltanto per i frullati questi sono gli ingredienti quindi baby spinaccino albicocche pesche un po di scaglie di cocco e semi di cia e ci metterò non il latte di mandorla stavolta ma il latte normale senza lattosio ne metto tantissimo così rimane bello denso poi aggiungiamo un po di scaglie di cocco e i nostri semi di cia ok frulliamo il tutto il nostro frullato è pronto mi rendo conto che il colore non sembra bellissimo ma vi garantisco che è stra buono è super super denso frullato pronto buon appetito come ogni mattina faccio colazione in terrazzo perché il sole arriva sempre dopo l'ora di pranzo quindi c'è sempre ombra e appunto faccio sempre colazione qui e volevo anche farvi un update del mio terrazzo perché come potete vedere l'ortensia non so se l'avevate vista questa ed è fiorita e bellissima cioè guardate che meraviglia e poi ho preso quest'altra che non so se vi avevo fatto vedere che è meravigliosa veramente meravigliosa e poi c'è la passiflora guardate che belli sono i fiori della passiflora e quando se ne apre uno durano tipo solo 24 48 ore e poi si richiudono ma sono veramente stupendi e poi qui abbiamo queste violette poi qui c'è invece una rosa che ho scoperto è di colore giallo perché sta per aprirsi sta per fare due fiori e poi questo non so come si chiama e ha tutti questi fiorellini viola fucsia che però non so perché non mi sta buttando fuori altri fiori ce n'è solo uno rimasto la pianta sembra che stia bene però non so se la sto bagnando un po' troppo o troppo poco datemi consigli su questa se ne sapete di più e poi qui c'è la pianta carnivora che ha anche catturato una mosca non so se la vedete ma sta qua però poi si è riaperta non lo so perché forse non le piacciono le mosche particolarmente e basta insomma poi ci sono i gerani imperiali se non sbaglio questo che avevo messo qui è morto poverino perché stava troppo attaccato all'altro però in generale mi piacciono molto qui sul tavolino c'è quest'altra rosa che i gatti mi avevano mangiato completamente cioè non aveva più neanche una foglia e quindi l'ho messa appunto qui sul tavolino adesso si è ripresa molto bene devo dire sto lottando con gli affidi delle rose ma ho lo spray apposito e adesso si è ripresa molto molto bene non vedo l'ora che fiorisca perché non so di che colore sia quindi surprise e poi da quest'altro lato allora ho preso questa che vi giuro non ricordo il nome so che deve fare dei fiori bellissimi però sta buttando fuori solo foglie ma non fiori per il momento e non mi ricordo il nome di questa e poi ho un'altra hortensia più piccolina anche questa me l'avevano disintegrata i gatti mangiando tutte le foglie ho dovuto toglierla dalla portata dei gatti per un po' e adesso è fiorita si è rimessa in sesto ha fatto un sacco di foglioline nuove quindi adesso può stare qua è arrivato anche Gatto Denver che è la sua erbetta gatta lì comunque sono molto fiera del mio angolino qui in terrazzo tutto colorato nel frattempo stava per venirmi un infarto perché è partita la sirena che parte ogni primo lunedì del mese e ogni volta mi viene un infarto Gatto Denver fa veramente impressione ma è una cosa normalissima buongior ragazzi ci trucchiamo assieme inizio con la mia base con fattore protezione 50 questa è di Diego Dalla Palma e si chiama UV Daily Primer intanto applichiamo quando inizio di truccarmi applico sempre il balsamo labbra come vi dico sempre così prepariamo le labbra e quando arriveremo al rossetto saranno già belle morbide e idratate adesso stendiamo il nostro primer fuori c'è il sole oggi e quindi se non mettessi il primer sotto il fondotinta probabilmente mi ossionerei questo ci metto un po' ad assorbirsi ma poi lascia la pelle abbastanza opaca anche se la mia è molto lucida ultimamente ma con questa mi trovo bene ricordate che con l'SPF è sempre meglio applicarne un po' di più piuttosto che un po' di meno fondo tinta vado ad utilizzare questo di Clinique che riesco finalmente ad utilizzare perché sono abbronzata perché è molto scuro cioè parecchio più scuro rispetto alla mia carnagione questo è l'anti blemish solution la colorazione è la 2 fresh ivory cerchiamo per bene non guardate i miei capelli in questo momento che devo ancora sistemarli ero molto curiosa di provare questo fondotinta quando mi è arrivato ed era troppo scuro mi è dispiaciuto un sacco ma mi sono detto ok lo lasciamo da parte per l'estate ed effettivamente mi è tornato super utile e non è la prima volta che lo applico lo sto applicando negli ultimi tempi abbastanza da quando sono tornata dalla Sardegna e vi devo dire che mi ci trovo molto bene molto naturale ma copre il giusto guardate che bell'effetto fa coprente il punto giusto perché mi copre le imperfezioni è luminoso ma ovviamente ci passiamo un velo di cipria è naturale perché anche da vicino non si vede correttore applico il boeing cakeless concealer di benefit e lo applichiamo sotto gli occhi giusto per coprire un po' le occhiaie sfumiamo per bene non farò un trucco troppo complicato una cosa molto naturale perché devo andare dal commercialista e poi a fare delle cosine in centro ma visto che dovevo uscire e non avevo tempo per filmare un video a casa oggi mi sono detta ok assolutamente visto che mi chiedete un sacco di vlog e leggo sempre i vostri commenti quindi vedo le vostre richieste mi sono detta ok oggi dobbiamo filmare assolutamente un vlog blush applico questo di Dior che cambia colore a seconda della nostra pelle è un blush universale molto naturale quindi lo tengo qui nel cassetto dei trucchi che uso più spesso perché è un blush che sta bene con un sacco di make up diversi mi avete detto e me ne sto rendendo conto che la videocamera perde il focus quindi va fuori fuoco ogni tanto questo è dovuto al fatto che io gesticolo tantissimo e mi muovo tantissimo quindi la videocamera non sa bene che cosa inquadrare se le mie maniche sono in primo piano oppure il mio viso eccetera dovrei metterla su manuale ma quando filmo i vlog è un po' difficile per i video normali invece potrei farlo se vi da molto fastidio fatemi sapere questa cosa perché poi me ne rendo conto anch'io nel montaggio quindi lo vedo che un po' appunto ogni tanto va fuori fuoco terra sto applicando questa di Marc Jacobs e la Omega Bronze colore fantastic ho questa terra da secoli ma è fantastica trucco completato sugli occhi ho messo soltanto un bel po' di mascara questo è di me che è il mextech e rossetto pillow talk di Charlotte Tilbury e questo è l'outfit del giorno ho messo la vetino fucsia che avevate visto in uno degli ultimi video ve li ho fatti vedere e questo continuo ad adorarlo il colore è leggero morbido adoro poi ho questa giacchetta in jeans corta perché all'ombra con il vento qui fa un po' freschino non è come in Italia zainetto quello di Chanel che è molto ampio e devo metterci dentro l'agenda con tutti gli scontrini e le fatture per il commercialista e ai piedi ho invece i sandali di Valentino neri prendo l'agenda che ha dentro tutte le fatture e gli scontrini che mi servono andiamo finito il meeting con il commercialista penso sempre di andare e stare dieci minuti e poi mi ritrovo in meeting che durano ore comunque sono andata anche a stampare un paio di cosine perché la mia stampante da ieri non funziona più vabbè che io non ci capisco niente quindi già era un miracolo che riuscisse a stampare ma da ieri c'è un errore nuovo nel senso che anzi se qualcuno di voi se ne intende purtroppo la stampante è connessa ma mi segno offline quindi ho trovato un posto dove stampare che mi serve poi per spedire un pacchetto è tipo un'etichetta che dovevo stampare ho ancora un paio di cosine da fare vi porto con me anche perché oggi è una bellissima giornata ce la godiamo e faccio anche una bella passeggiata questa è la zona ovest della città non ci vengono mai i turisti anche se è praticamente centro ma è un po' più verso ovest e stanno facendo un sacco di lavori in tutta Amsterdam se ci siete stati ultimamente lo sapete a proposito di lavoro in corso tutta la città così e gli olandesi sono super arrabbiati quanto mi incuriosiscono questi negozi dei cristalli sono stupendi davvero bellissimi dovrei capire meglio le proprietà di ogni cristallo diverso mi intrippa un sacco non conoscevo questo negozio ma è stata una scoperta guardate che dolci fantastici mamma mia tra le meringhe i cupcake le torte arcobaleno i come si chiama i cakesicles i popsicles oh wow è appena passata una scuola resca tipo 30 ragazzi delle superiori e vi giuro vi giuro i ragazzi delle superiori oggi sono vestiti esattamente come eravamo vestiti noi tipo nel primo decennio degli anni 2000 uguale cioè uguale questi top corti jeans o a zampa oppure più tipo morbidi comodi mi ritrovo un po' essere tipo tra quei vecchietti che dicono sì perché tutto torna di moda e quando noi eravamo a scuola anche noi ci mettevamo però vi giuro vero ci siamo i primi anni 2000 ci vestivamo esattamente esattamente così quindi mi fa troppo ridere sta cosa sto seguendo google maps perché a volte cioè mi trovo comunque però per vedere la strada più corta uso ancora google maps nonostante io sia qua ormai da sette anni e sto andando adesso verso la farmacia dove mi hanno spedito direttamente praticamente i miei integratori di vitamina D perché qui funziona in modo diverso rispetto all'italia quando il medico in questo caso la mia endocrinologa quando il medico ti prescrive un farmaco ti mandano direttamente nella farmacia più vicina a casa tua il farmaco è lì che ti aspetta quindi devi andare per forza in quella farmacia però è gratis cioè è incluso nell'assicurazione sanitaria che paghiamo qui che è privata sono passata al supermercato prendere qualcosa di fresco da bere ed ho preso una limonata con limone lime acqua e sciroppo d'agave buonissimo se lo trovate questo qui all'Albertine se venite ad Amsterdam in Olanda prendete perché è buonissimo ma è sempre sold out infatti era l'ultima bottiglia quanto sono fortunata a vivere in questa città bellissima cioè non c'è giorno che io non me lo ripeta guardate che meraviglia e poi c'è una pace qui lungo i canali veramente c'è sempre poca gente quindi mi piace sempre camminare qui ormai lo sapete evito sempre un po' il centro e passo sempre per i canali che sono la mia zona preferita di Amsterdam no vabbè pensavo fosse un gatto vero invece ci hanno messo l'adesivo del gatto sulla finestra o vabbè un tipico lunedì ad Amsterdam troppo bello ho anche pensato di prendere la bicicletta oggi visto che c'è bel tempo però quando fa così caldo evito perché poi veramente mi si rovina tutto il trucco che sudo tantissimo qua quindi ok meglio a piedi ho trovato la farmacia che la conoscevo già praticamente ma non pensavo fosse questa c'è questo negozietto super interessante che ha un sacco di snack americani che non si trovano se no in Europa anche è roba giapponese in realtà non solo americani ma un sacco di snack da varie parti del mondo no vabbè cioccolatini albeiris ragazzi li avevate mai visti? mi ispirano questo è un ristorantino dove vengo spesso con le mie amiche di Avocado Show molto carino ce ne sono diversi in giro per la città questo mi piace perché ha i tavolini sul canale quanto adoro questi negozietti tipo questa è una piccola libreria e mettono anche i libri all'esterno questi sono in offerta un euro e due pezzi cinque euro è bello perché ti puoi fermare e curiosare e adesso sto andando a spedire questo pacchettino e la strada che faccio è sempre quella sui canali ovviamente camminando vedi questi angolini della città che ti lasciano senza fiato ok adesso andiamo al supermercato cercherò di portarvi con me anche se non dovrei quindi vedo di nascondere la videocamera vi porto anche al supermercato che so che vi piacciono le riprese nei supermercati quindi ci proviamo allora ho preso una spremuta eccole qua una spremuta all'arancia da un litro questi sono i succhi i vari spremute e quella è la macchina per fare la spremuta al momento che però è rotta tipo poi qui c'è la frutta che è tipo finita tutta quasi c'è la verdura pure vengo sempre troppo tardi qualcosina è rimasto qua in Olanda dopo le uh l'anguria l'anguria in Olanda dopo le 18 probabilmente non si trova più niente devo prendere le scatolette per i gatti perché sto aspettando l'ordine delle loro pappe solite e dell'almonature e per oggi non le ho quindi devo prendere qualcosina da qua lì tutto per cani niente ci sono solo queste praticamente e stavolta un po' in ritardo la spedizione quindi vabbè prendo due a caso così ne prese guardate che carina la busta giornata ragazzi cioè meraviglia non c'è una nuvola fa caldo poco vento troppo bella infatti mi verrebbe voglia di uscire ho visto che sono uscita tutto il weekend e sono indietro con le email e mi so che stasera starò a casa a lavorare al computer devo rispondere alle email tra l'altro sto organizzando un viaggio quasi già organizzato ne sto organizzando un altro in più tra due settimane parto quindi c'è un sacco di cose in queste ultime settimane che sono qui cioè parto in realtà vado solo a Roma per il weekend però ho diverse cosine che devo finire prima e poi monterò questo video quindi sto tornando a casa comunque una di voi mi ha appena fermato stavo entrando in casa tipo stavo aprendo il portone mi sono sentita chiamare Nicole tipo mi giro e insomma questa ragazza carinissima che mi ha detto che mi segue da tantissimo tipo dagli inizi che vive in Danimarca ma è qua per lavoro solo qualche giorno che è appena arrivata praticamente ed ha fatto una passeggiata lungo i canali e mi ha beccato cioè io quando vi dico l'universo veramente una cosa deve succedere voi mettete in moto un minimo e succede quindi è stata una piacevole chiacchierata mi ha fatto molto piacere anche perché succede molto spesso che mi fermiate quando sono in Italia succede costantemente ed è quasi overwhelming perché non ci sono più abituata ma in Olanda non mi capita così spesso cioè se sono in Italia ogni volta che esco di casa qualcuno o più di una persona mi riconosce qui invece è una cosa succede anche ma non proprio ogni giorno quindi insomma forse diciamo che lo apprezzo quasi ancora di più perché non me lo aspetto proprio qua ad Amsterdam quindi mi ha fatto super super piacere sapete invece qual è una cosa estremamente antipatica invece e mi succede e non penso di aver mai sentito nessuno online parlarne tipo ma praticamente tra le cosce c'è una parte che si sfrega ok è tipo in estate quando non ci sono strati di tessuto in questo momento ovviamente un abito e quindi le cosce sfregando assieme mi fanno irritazione e mi fa veramente male e in estate quando fa caldo e appunto ho vestiti abiti o short o appunto gonne ho sempre questo problema e di solito uso la pomata adesso ve la faccio vedere ma se avete un consiglio per quanto riguarda questo problema veramente fatemi sapere perché la pomata che uso aiuta un pochino quando l'arrossamento e il dolore già c'è ma non so come prevenirla questa cosa ecco questa è la pomata che uso che è appunto un unguento a base di zinco e mi aiuta e tra l'altro la uso anche se ho tipo dei taglietti sulle labbra o ai lati delle labbra utilizzo sempre questa però appunto questa mi serve solo quando già il problema c'è cioè già l'arrossamento c'è già mi fa male quindi mi aiuta un po' a far passare diciamo il dolore e a guarire più in fretta però non so come prevenire questo problema comunque piccolo update volevo parlarvi di questa questione e approfitto del fatto che sto filmando un vlog in cui appunto posso parlare di qualsiasi argomento liberamente con voi e volevo in particolare parlarvi del perché è ormai da diversi mesi che non acquisto nulla da chanel e per la prima volta non ho preso nulla della collezione primavera estate che come sapete è la collezione che di solito più mi piace e acquisto sempre qualcosina sia di questa che di quella natalizia insomma per le feste e vi devo dire molto onestamente che è già era successo un po' di tempo fa tra l'altro gattastellina non tirarmi giù la videocamera si vieni qua gattastellina vieni qua gattastellina e gnè 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 brontolona brontolona anche lei diventa tanto dolce solo qualche volta quando va bene a lei quando ha voglia di essere dolce in questo momento voglio le coccole che testate ma dai le testate alla videocamera patatina sei bellissima patatina mia sei bellissima e stilina mia comunque vi stavo dicendo mi sono un po' arrabbiata diciamo con chanel negli ultimi mesi e quindi per un'antipatia momentanea che ogni tanto a me succede con chanel perché già era successa sta cosa adesso non mi ricordo per quale motivo tempo fa però per un po' avevo smesso tipo per pochi mesi da acquistare più di tanto non riesco però veramente c'è stata una cosa che proprio non mi è andata giù e vi spiego se vi ricordate mi avevano invitato all'evento del lancio della nuova collezione primavera estate primavera in realtà qui alla boutique di Amsterdam e quindi ho visto un sacco di cosine carine c'era una giacca che volevo ma non c'era la mia taglia però c'era una borsa e adesso ormai ve lo posso svelare perché tanto non la riceverò mai c'era la borsa a forma di cuore che è uscita con quella collezione la heart bag che io volevo tantissimo era uscita in tre taglie in tre misure diverse c'era la borsa insomma grande la misura piccolina e poi c'era una specie di polsino con insomma il cuoricino io ovviamente appunto volevo la borsa grande e mi sono messa in vista e devo essere onesta sono stata contattata però e allora piccola premessa era difficilissimo accaparrarsi questa borsa ci sono state liste d'attesa lunghissime persone che spendono cifre esorbitanti più grandi delle mie da Chanel non l'hanno ricevuta io devo essere onesta sono stata fortunata perché sono stata contattata dalla boutique per andare appunto ad acquistare la borsa rosa però era disponibile in tre tonalità quella grande bianca rosa e nera e io la volevo bianca o nera possibilmente nera mi hanno chiamato però per quella rosa e non era un rosa chiaro un rosa pastello era a metà tra il rosa chiaro e il fucsia insomma una tonalità che non mi sta particolarmente bene poi sapevo che rosa l'avrei sfruttata veramente poco perché ho diverse borse rosa stanno bene solo con determinati outfit e io la volevo nera perché sarebbe stata poi una borsa che avrei potuto portare in qualsiasi occasione sia di giorno che di sera a seconda dell'outfit insomma appunto la volevo nera anche bianca insomma più o meno ha la stessa portabilità però la volevo nera sono stata contattata per la borsa rosa quindi qui devo dire sono stata io a rifiutare e a dire no perché io la voglio appunto di un altro colore rosa non la sfrutterei abbastanza non mi va premessa questa borsa costava 4.000 e qualcosa euro adesso non mi ricordo comunque 4.000 è qualcosa la stessa borsa era già in vendita nei negozi online che vendono Chanel usato e la vendono la vendevano e la vendono tuttora dai 7-8.000 ai 14-15.000 euro quindi io avrei potuto prendere la borsa rosa rivenderla e guadagnarci su 6.000 euro 5-6.000 euro comodamente non l'ho fatto perché uno volevo avere quella nera e se avessi preso quella rosa poi ovviamente il mio nome era in lista per una borsa quindi non mi sarebbe mai arrivata nera 2.000 non mi sembrava corretto verso Chanel perché comunque avrei fatto una pessima figura e io non insomma non acquisto da Chanel con l'idea di guadagnarci su se poi una borsa ovviamente la indosso per anni e anni il valore cresce poi decido di rivenderla dopo anni un altro discorso però fare una cosa del genere poi non mi sembrava neanche tanto bello onestamente nei confronti delle altre persone che erano in lista se io ho la possibilità di avere una borsa me la tengo perché non ha senso cioè è veramente scorretto per poi andare a guadagnarci su su persone che come me la desiderano tanto quindi appunto cosa è successo allora poi sono stata in lista d'attesa ma purtroppo per la nera e per la bianca non mi hanno chiamato quindi qui ok già era difficile avere quella rosa quindi sono comunque stata fortunata naturalmente essendo cliente da molti anni eccetera ci sta però io volevo appunto un altro colore non mi è arrivato e mi è stato detto che appunto purtroppo chi era in lista d'attesa prima di me l'ha ricevuta ne sono arrivate poche eccetera eccetera ho provato con Chanel Milano ho provato con Chanel Roma ho provato con Chanel Monaco ho provato con l'unica che mi aveva dato una speranza era Chanel Vienna ma per me andare a Vienna da Amsterdam era molto difficile abitassi a Trieste sarebbe stato più semplice ma non facendo spedizioni loro non so perché a Vienna non fanno spedizioni quindi sarei dovuta andare personalmente in boutique e purtroppo per me non era possibile entro un arco di tempo così breve perché ovviamente non te la tengono per sempre ok poi io a Vienna non ho un SA di fiducia che conosco non ci sono neanche mai stata a Vienna e quindi appunto quello che mi ha fatto arrabbiare arrivando il punto che io non so mai fare discorsi seguendo un filo logico ma vado tipo così ok il fatto è che poi sono andata a vedere bene online ed ho visto che online decine e decine e decine e decine per non dire centinaia di persone la stanno rivendendo al doppio triplo del prezzo e chi sono le persone che stanno rivendendo questa borsa sono clienti come me che hanno accettato l'offerta della borsa che hanno visto che ci avrebbero potuto guadagnare su tantissimo e che quindi l'hanno venduta però il mio discorso è voglio dire se tu cioè io questa cosa appunto non l'ho fatta perché non è corretta secondo me quindi ok e già qui si capisce appunto però voglio dire la stessa Chanel che avendo così pochi pezzi di questa borsa essendo questa borsa talmente esclusiva ovviamente solo i migliori clienti hanno potuto averla ok gli è stato offerto di acquistarla perché ti viene offerto di acquistarla ok solo pochi clienti i migliori ok che acquistano da Chanel anni 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 ok quindi voglio dire evidentemente devono rivedere un attimino i clienti fidati che hanno perché in realtà gran parte di questi clienti fidati a cui è stata venduta la borsa che cosa hanno fatto non l'hanno indossata neanche un giorno preso l'hanno rivenduta e questi non sono veri clienti perché se tu sei un vero cliente non vai a guardare il guadagno come non ho fatto io ma vai a guardare il pezzo da collezione o comunque appunto la borsa in questo caso ma voi sapete che sono investimenti eccetera e quindi vai a vedere la borsa e l'acquisti perché ti piace quindi il mio discorso è che clienti hanno sulla lista se poi questi non sono veri clienti ma sono persone che semplicemente vogliono guadagnarci su cioè ne hanno fatte talmente poche che è una cosa talmente esclusiva e tu cosa fai invece di venderla a clienti che effettivamente poi la indossano la vendi a persone che vogliono solo lucrarci sopra quindi io so che neanche Chanel è felice di questo perché è stata una cosa immediata cioè nel momento in cui questa borsa veniva venduta due ore dopo era online si è visto io adesso non so se Chanel perché so che molti clienti si sono lamentati voi adesso mi direte ovviamente questi non sono problemi veri sono stupidaggini ovviamente quindi dimensioniamo ridimensioniamo il tutto ok per l'importanza che può avere questa cosa però io quella borsa la volevo veramente tanto e da cliente non mi sono sentita non trattata in realtà assolutamente no perché la ragazza è sempre gentilissima però non mi sono sentita calcolata forse abbastanza perché io quella borsa l'avrei indossata non l'avrei rivenduta lucrandoci su quindi so che questa cosa non piace neanche al brand quindi adesso mi chiedo come risolveranno che cosa faranno io appunto mi sono lamentata non penso purtroppo che ci sarà una re-edition che la rifaranno uguale identica purtroppo e per principio ho pensato anche di acquistarla online ma costa il triplo di quello che l'avrei pagata in negozio e per principio non mi sembra giusto perché da cliente io avrei dovuto averla al prezzo dello store quindi questa cosa mi è rimasta veramente qua e quindi non ho acquistato da Chanel per un po' perché io volevo quella borsa e mi sono messa in testa adesso mi chiameranno per questa borsa appunto non è successo ho guardato il sito di Chanel per vedere di prenderne un'altra però non ce n'è una che mi piace onestamente a parte quelle classiche però nei colori che le volevo già le ho ho dato uno sguardo con la speranza che ne sia uscita una simile però per il momento no ripeto non sono questi problemi nella vita però è bastato per farmi avere questa antipatia adesso per Chanel da qualche mese a questa parte che vi giuro non sono neanche andata in boutique perché avrei parlato di quella borsa e quindi mi sono detto ok lasciamo stare adesso sto sperando che la rifacciano però se anche la rifaranno ovviamente non sarà uguale quasi sicuramente a meno che non entri nella linea classica delle borse cosa che però purtroppo non credo quindi questa che poi è stata una specie di re-edition della borsa a forma di cuore che però aveva il logo molto grande degli anni 90 che mi piaceva un sacco e volevo acquistare quella vintage ma mi sono detta già che ne esce una nuova prenderò questa nuova e invece è andata così qualcuno di voi mi ha chiesto ma come mai Nicole la collezione primavera estate di solito acquistava e avevi detto questo è il recap di quanto è successo praticamente quindi mi sta già un po' passando l'antipatia perché già qualche giorno fa ero sul sito Chanel appunto a vedere però non veramente non c'è una borsa che mi ispiri particolarmente infatti se avete visto il video haul ho preso quella di Saint Laurent estiva che appunto desideravo dell'anno scorso ma di Chanel almeno con queste collezioni non c'è niente che mi sconfifferi particolarmente il prossimo no il weekend quello dopo sono a Roma quindi potrei anche fare un salto nella boutique lì ma a meno che non ci siano cose di altre collezioni passate appunto non penso di trovare nulla perché dal sito non mi ispirava niente anche se non si sa mai in realtà perché molto spesso ci sono delle belle sorprese e volevo fare questa piccola parentesi raccontarvi questa cosa questo è il motivo per il quale appunto vi avevo promesso un video haul Chanel e non è arrivato perché io volevo fare il video haul con quella borsa raccontarvi tutto quanto del valore che ha ma di come io non volessi assolutamente venderla perché non me ne frega niente di guadagnare cioè nel senso ovviamente in questo caso però non mi frega niente di guadagnare io volevo solo avere quella borsa per indossarla e invece è andata così ok adesso prima di cena mi metto a lavorare al computer e noi ci vediamo dopo arrivata la mia cenetta ragazzi stasera ho ordinato cinese che profumino allora ho preso vi faccio vedere anche se il cinese qui è molto diverso rispetto al cinese in Italia però ho preso questi ho preso questi spaghettini noodles con gamberi e uovo e poi qui ho voluto provare questi spiedini con le patate e ho preso anche il mais sempre grigliato tada per te no gatto denver tu hai già fatto la pappa hai già fatto la pappa tu si invece inutile che brontoli ma guardate lo sto gattino ma guardate lo sto gattino mamma mia ti piace profumino si tanto ti piace profumino immaginavo come è mio mio bubu comunque sono molto contenta che abbiano seguito le mie istruzioni perché avevo chiesto nelle note di non aggiungere i germogli di soia che mettono sempre con i noodles e a me non piacciono per fortuna hanno letto le note e non ci sono quindi top gnom gnom ah e poi ho trovato nella busta c'era anche questa salsina non ben definita che però io naturalmente non mangerò perché non mi sembra né salsa di soia né ketchup che sono le uniche due salse al mondo che io mangio quindi no grazie e ragazzi visto che una volta finito di cenare devo tornare a lavorare perché avrò circa tre quattro orette di montaggio per montare questo video vi saluto adesso così lo carico già stasera lo programmo per domani così alle 17.30 e online tra l'altro volevo anche dirvi che non so ancora in quali giornate caricherò esattamente però se esce un video esce sempre alle 17.30 però appunto sarò molto più presente da adesso quindi cercate i miei video quindi questo è quanto mia family vi saluto adesso bacio gigantissimo venite qua che vi abbraccio forte forte e vi aspetto al prossimo video ciao ciao